Buongiorno, sono Walter Squizzato, faccio parte del team Bretton e mi occupo di ufficio metodi a tempi, cioè quell'ufficio che si occupa di tempi e metodo sul lavoro. Poi lei lavora nella Bretton, ci spiegono brevemente cosa fa la Bretton, che azienda è? La Bretton è un'azienda leader nel settore mondiale, costruiamo macchine per la lavorazione della pietra, sia composita che naturale. Dal 1996 abbiamo iniziato anche a costruire macchine per la lavorazione della meccanica, particolarmente in modo nella stampistica. La crisi voi non la sentite? No, noi non l'abbiamo sentita pur, tra virgolette, avendo la vista. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'azienda ha sentito crisi ma è assurda a superarla o a farci fronte andando su quello che sono le tecnologie, quindi l'innovazione, lo sviluppo di nuove macchine, quindi cercando di investire su quello che è il futuro. Quindi questo è stato una leva molto importante per far fronte alla crisi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.